Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e visto che è veramente tantissimo, che io non faccio wrap up perché non ho fatto nemmeno quello di novembre ho un bel po' di cose di cui parlare, no forse novembre l'ho fatto, vabbè ma ok da novembre poi più o meno non vi ho detto più che cosa ho letto e quindi visto che ho letto veramente un sacco, penso sia arrivato il caso di fare almeno un punto di un bel po' di titoli dei quali devo parlarvi e mi fa anche piacere parlarvi perché ci sono degli altissimi, anche un po' di bassi nulla di tragico, però insomma tante belle cosine che secondo me, insomma a me sono piaciute ed è giusto che condivida con voi anche quelle che non mi sono piaciute partiamo da quello che è stata la mia prima lettura di dicembre che è stato Papaya Salad di Elisa Macellari, è una graphic novel edita about publishing al prezzo di 21 euro e grazie a loro che me l'hanno gentilmente donata, anche se apparentemente non era il mio genere ormai quelli di Bao mi conoscono abbastanza bene e quindi di solito mi mandano cose più fantasy o più legate a certe tematiche, in realtà io ho adorato questa graphic novel rientra forse dopo, guardate forse dopo, vabbè a parte saga che è una cosa al di là del bene e del male dopo non stancarti di andare è la mia graphic novel preferita del 2018 a parte che è esteticamente meravigliosa, si è in copertina perché ha anche diversi materiali ha degli elementi leggermente in rilievo, ha questi colori fluo nelle pagine, nei risguardi ma ha anche proprio questo colore teal che io adoro e amo, quindi insomma anche esteticamente a colpo d'occhio mi piace davvero tanto, però quello che secondo me è veramente importante è ciò che c'è scritto qua dentro ciò che è disegnato qua dentro, ciò che questa storia vuole portare Elisa Macellari che ho avuto anche il piacere di incontrare a Bologna e farmi accompagnare proprio a una sua mostra insieme a un sacco di altre persone carine come le Adoni di Chibi's The Way, Gemma di Lettori Ribelli, insomma tante cose bellissime e tutto ciò è culminato con questa lettura che è una sorta di viaggio e ci troviamo a seguire l'infanzia del nonno di Elisa che si chiama Songpong Songpong è un ragazzo molto giovane che vive in una zona estremamente rurale non so cosa sta succedendo fuori dalla finestra, ci stanno litigando tutti ambulanze, automobilisti, autobus, vabbè Songpong proviene da una famiglia rurale che abita in una zona molto dispersa della Thailandia in un'epoca in cui proprio quasi che sembra preindustriale del tutto e seguiamo la sua vita e la sua prima infanzia piena di elementi molto simbolici pieni di momenti che effettivamente sono da un lato molto dolci e da un lato che ricorreranno, sembreranno quasi allegorie all'interno del racconto e poi lo seguiamo fino all'età un po' più adulta quando è un giovane studente quando è uno studente davvero molto bravo purtroppo venendo da una famiglia umilissima e finalmente da studente in quanto molto bravo vince un viaggio per studiare all'estero e lo vincerà in Germania peccato che è la Germania degli anni 40 e quindi niente insomma dopo diventa tutto spoiler quindi non voglio rovinarvi la sorpresa di leggere questa cosa bellissima ma innanzitutto dal punto di vista estetico quindi parliamo di disegno parliamo delle tavole eccetera io l'ho amato particolarmente perché come vedete ci sono tavole molto piene molto ricche, molto colorate tavole dove si racconta davvero qualcosa di molto vivo molto tangibile che è un aspetto che io amo molto ma anche tavole dove ad esempio il bianco è quello che la fa quasi da padrona come se fosse un altro colore è una cosa un po' inusuale che non mi è capitata spesso nelle graphic novel e nei fumetti invece lo stile di Elisa secondo me riesce a unire sapientemente questo non colore questo colore perché secondo me è molto riuscito in questa graphic novel ma poi soprattutto dal punto di vista della narrazione l'ho trovato molto poetico molto emozionante anche è una storia di sensibilità estrema è una storia che racconta una difficoltà con una delicatezza incredibile perché ci sono cose che sono talmente più grandi di noi che noi non possiamo governarle e noi non abbiamo il controllo su nulla però devo dire io mi sono molto emozionata leggendolo soprattutto la fine è stato molto commovente anche e l'ho trovato molto riuscito perché sia la narrazione quindi la parte insomma di vicenda che porta avanti sia i disegni riescono davvero a sostenere questa graphic novel splendidamente quindi davvero parla di tanti elementi del contatto col cibo e come il cibo possa essere un elemento di unione molto forte ma anche di identità ma non solo parla anche di famiglia parla di speranza di futuro parla di passato quindi della nostra storia ciò che purtroppo è più grande di noi e che non potremmo mai governare ma parla anche di ritornare di avere ben chiara nonostante si sia in giro per il mondo le proprie radici è molto attuale io ve la consiglio tantissimo per me una delle uscite migliori di Bao del 2018 e se non l'avete ancora fatto io ve lo consiglio tantissimo davvero non ci avrei scommesso neanche un euro invece mi sono mangiata tutte le mani per non averla letta prima quindi grazie alla Chiara di Bao che me l'ha consigliata moltissimo e a Elisa che è stata carinissima poi prendo il cellulare perché io meno male segno tutto su Goodreads se no io ora non mi ricorderei assolutamente nulla ma arriviamo a dicembre dicembre è successo questo ho fatto l'abbonamento prova ad Audible grazie ad Audible visto che è un periodo che non stavo ascoltando tantissima musica mentre lavoravo ho iniziato a ascoltare un sacco di audiolibri o almeno non è che ho iniziato li ho sempre ascoltati io gli audiolibri però devo dire ma in maniera così verticale come in questi due mesi poi sugli audiolibri magari ne parliamo perché il problema non sugli audiolibri il problema sono proprio i gestori di audiolibri ma questo è un altro paio di maniche ma comunque veniamo a noi primo audiolibro che ho ascoltato visto che ho iniziato a vedere la serie dell'amica geniale io mi sono sempre ben tenuta distante chilometri da questo titolo so che è una cosa che non ha senso per molti di voi però per me non lo so non mi ha mai ispirato pienamente non so io non ho mai trovato alcuna fascinazione all'interno di questo romanzo l'ho detto perché visto che ci siamo non ci ascoltiamo l'audiolibro e meno male che l'ho fatto perché effettivamente ne è valsa la pena soprattutto anche per avere una visione molto più concreta della serie televisiva che a me comunque è piaciuto mi è sembrata una fiction rai versione americanata però nonostante tutto l'ho trovata molto giusta e molto corretta per esprimere il senso del libro ecco ma veniamo al libro perché ci interessa quello allora penso che per l'amica geniale non ci sia bisogno che vi spieghi la trama perché credo di essere io l'ultima ad averlo letto ma vi spiegherò le mie impressioni allora noi seguiamo ovviamente la storia di queste due amiche che dall'infanzia crescono insieme e hanno questo rapporto molto stretto ma non solo cioè un rapporto molto conflittuale a volte altre volte è un rapporto che invece è di sostegno estremo eccetera ma soprattutto si inserisce in questa dimensione del rione che è la dimensione della vita stessa praticamente per tutto sia per le bambine ma soprattutto per tutto questo universo di personaggi che ruota loro attorno io in questo mi sono riconosciuta molto perché vengo da un paesino e questa dimensione è qualcosa che ti rimane fortemente attaccata perché tuttora faccio fatica ad avere delle dimensioni diverse nella vita so che è strana come cosa perché ho anche viaggiato parecchio sono stata in tantissime cose però devo dire che se c'è una cosa che è certa nella mia vita è che la dimensione del paesino non ti abbandonerà mai e in questo mi ci sono ritrovata molto è stato anche facile effettivamente come lettura e il modo in cui Elena Ferrante scava nell'amicizia tra Lenù e Lila è stato molto verichiero molto onesto molto grezzo anche il modo in cui l'ho raccontato ma grezzo non ne intendo nello stile ma soprattutto nel voler evidenziare tutto quello che l'amicizia implica e comporta c'è anche l'influenzarsi continuamente a vicenda i buoni ma anche i cattivi sentimenti che si provano spesso l'uno per l'altra allora comunque arriviamo al punto allora io penso che il senso di immersione di questo libro sia veramente incredibile sia forse uno dei punti più forti che è il libro perché comunque è come se tu ti trovassi al tavolo della vicina di casa quindi per me è stato come stare non lo so a casa di un'amica di mia nonna mentre ci si trovava si fumava una sigaretta e ci si raccontava ci si aggiornava su ciò che era successo su ciò che era andato su tutti diciamo i pettegolezzi gossip del paese ma non solo ma anche sulla sorte di uno dell'altro sui successi e gli insuccessi di uno dell'altro questa cosa qua è veramente molto forte perché è quello il senso un po' di immersione che ti dà il libro e quando sei in questa dimensione seduta a un tavolo che bevi il caffè magari e intanto ti aggiorni racconti ogni dettaglio da quelli minuscoli apparentemente insignificanti anche solo agli aggiornamenti a quelli evidentemente eclatanti perché tutto assume un certo aspetto come tutto sia rilevante sia un qualcosa da sapere perché in fondo l'identità si scopre proprio in questi aspetti del libro e questa cosa qua a me è piaciuta devo dire che mi è piaciuta molto tutto molto simbolico tutto molto particolareggiato venendo a Lila e Lenù che sono le due protagoniste per me il loro rapporto è un rapporto molto onesto molto veritiero ma non onesto tra di loro onesto per il lettore perché non c'è mai un filtro che ti fa vedere solo il bene e solo il male e credo che in alcuni momenti tutti noi siamo stati un po' Lila tutti noi siamo stati un po' Lenù io sicuramente propendo più per Lila soprattutto ora che sto leggendo sto leggendo sto ascoltando il secondo libro io e Lila purtroppo abbiamo tante cose che si sovrappongono questa cosa qua mi fa strano però devo dire che la mia fatica è stata un po' anche comprendere Lenù invece perché a volte l'ho trovata così inerme così irritante nell'essere passiva in tutto che è un po' faticato forse anche questo è un po' il mio fastidio rispetto al suo personaggio però invece è un personaggio che in altri momenti ho capito molto e mi ci sono sentita proprio vicina ravvicinata anche con questo tipo di amicizie che sono molto conflittuali però ci cresci con questo tipo di amicizie attraversi tante fasi cioè tutto bello questo è soprattutto un'amicizia che si basa sulla codipendenza quindi non è un'amicizia sempre sana per alcuni versi infatti spesso litigano spesso si passano una sorta di invidia l'una per l'altra come se l'una invidiasse l'intelligenza dell'altra l'altra invidia invece il destino che sta vivendo l'altra che è quello che lei non ha mai avuto insomma questo bene e io in Lila mi ci sono ritrovata tanto per tanti versi capisco quella rabbia quella frustrazione quel senso di immobilismo al quale si è costretti perché non si può sfuggire al proprio destino è una sensazione che ho vissuto per tanti anni quindi lo capisco l'ho capita tanto più che Lenù sicuramente anche se Lenù mi sono ritrovata per tanti altri versi però vi devo dire anche una cosa un po' negativa nel senso che tutto bello questa cosa mi è piaciuto però devo dire che il mio limite con questa serie in generale che sto vedendo anche molto nel secondo i miei limiti sono due principali il primo è che il mio senso era sempre cioè mi ritrovavo spesso a chiedermi e quindi ora cioè non c'è mai un crescendo un po' tutto viene messo sullo stesso piano come vi dicevo anche prima che in alcuni momenti è molto riuscito in altri avrei preferito più enfasi avrei preferito più reazioni è una cosa che mi è sembrato troppo passivo tutta una lettura tutta passiva di alcuni avvenimenti come se ci si rendesse del tutto arrendevole a quello che succede a quello che si sta vivendo anche nei momenti in cui era forse naturale spontaneo uscire da questa dinamica e non è una questione di ambientazione e anni in cui è stato scritto cioè penso sia purtroppo un mio limite con questo stile perché diciamo che c'era come una barriera del tutto glaciale no? una sorta di cuscinetto impermeabile in cui tutto passava filtrato no? ma filtrato senza dare un giudizio su nulla proprio mettendo ogni cosa una di fila all'altra non ho mai capito cosa sia rilevante per l'autrice o no cosa abbia effettivamente colpito Elena o no cosa abbia colpito o no questa cosa cioè secondo me sicuramente l'intento dello stile del libro è bravissima Elena Ferrante non lo metto in dubbio a me non ha preso proprio molto diciamo così il mio secondo problema ed è stato legato sempre allo stile e legato sempre alle tematiche è che io amo profondamente Elsa Morante e tantissime cose che ho ritrovato in Elena Ferrante derivano totalmente dalla Elsa Morante con tutto il bene questo simbolismo fortissimo di azioni oggetti di dinamiche è tutto lì tutto nasce da lì la dimensione della narrazione così immersiva viene dall'Elsa Morante quindi forse è stato che per me lei è una dei capostipiti di quello che è stata la mia formazione letteraria insieme a tante altre autrici italiane della prima metà del novecento quindi forse è stato questo il mio problema fondamentale io rivedevo troppo l'Amorante dentro rivedevo troppo queste cose e quindi mi sarebbe piaciuto vedere un'evoluzione di questa sorta di passività nelle azioni nello sguardo che ha il lettore non so cioè devo dire mi è piaciuto il tre stelle gliele ho date però diciamo faccio fatica a essere così innamorata così presa da questa serie nonostante io capisca che ci sia un tema di fondo che riguarda la violenza che riguarda la passività e l'ineluttibilità del proprio destino alla violenza eccetera soprattutto per la dimensione del rione bla 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 ma devo dire che per come è osannato per quanto è amato secondo me è osannato da tantissime persone che purtroppo non conoscono l'Amorante ma come l'Amorante anche la Maraini la Lerama per altre questioni cioè non lo so ragazzi pensavo davvero al libro della vita e per alcuni versi è molto interessante in questo momento storico per altri non sono rimasta così agganciata limite mio sicuramente probabile però penso che chi conosce bene determinati autori e autrici soprattutto ma anche Vittorini in qualche modo pavese molto alla larga un buzzati anche lì molto alla larga non lo so ragazzi pensavo meglio pensavo sinceramente qualcosa di più che mi avrebbe sbiondata ecco cioè però con questo ovviamente io non voglio sminuire l'opera non lo sto dicendo a mente calda cioè non sto dicendo come non ho capito che cosa mi è piaciuta cioè io l'ho capito benissimo il romanzo ho capito tutte le intenzioni sinceramente non mi vedo così legata alla morante no nel senso non mi vedo così legata alla ferrante in quanto sono molto legata alla morante non avrà senso per tanti spero che comunque si colga col massimo del rispetto capisco che sia un libro molto molto amato invece passiamo alla nota dolente di dicembre ho letto giaguari invisibili di Rocco Civitarese anche in questo caso però in audiolibro e l'audiolibro è fatto anche abbastanza bene quindi non mi posso lamentare dell'audiolibro anche se avevo il cartaccio che mi ha inviato un annetto fa più o meno Feltrinelli e che io non avevo mai avuto l'occasione di leggere allora parliamone giaguari invisibili che è scritta dal diciottenne ci tengo a sottolinearlo diciottenne Rocco Civitarese racconta la storia di un momento particolare nella cittadina di Pavia nel quale un gruppo di ragazzi adolescenti si trova a dover scegliere un po' il proprio futuro quindi nel salto che si trova proprio alla fine delle superiori per scegliere un po' la propria strada dopo e seguiamo questi tre amici Piero, Giussino e Davide che ci accompagnano un po' nella loro quotidianità nel loro rapporto sia con i loro coetanei soprattutto con le loro coetanei sia soprattutto anche con i dubbi sul futuro sui sogni su quello che vorrebbero fare quello che non sanno anche di fare spesso eccetera allora io questo libro gli ho dato due sedine e mezzo a me non è piaciuto per niente soprattutto per una questione di stile e per la gestione di alcune tematiche banalmente senza entrare negli spoiler perché non trovo sia neanche giusto insomma trovo che si veda molto che questo è un primo libro per soprattutto una questione di stile penso che il problema fondamentale dello stile è che non piace a me quindi potrebbe piacere a tanti di voi è uno stile molto sincopato è uno stile molto diretto è uno stile anche che ci mostra una serie di eventi un po' singhiozzo perché fondamentalmente è un po' senza trama preso con le pinze questa mia affermazione è un libro che non si fonda sulla trama ma soprattutto su delle sensazioni sul dare importanza ad alcuni avvenimenti perché effettivamente per i nostri protagonisti simboleggiano qualcosa di molto importante eccetera eccetera però diciamo anche questa questa frammentazione della trama questa frammentazione delle sensazioni dove non entriamo mai veramente in empatia con i personaggi cosa che penso che in una narrazione di questo tipo sia necessaria perché se elimini la trama elimini il filo guida della caratterizzazione dei personaggi io mi sento un po' spersa ecco personalmente quindi è un limite mio probabilmente a tanti piacerà non l'ho trovata cioè non l'ho trovata grande novità in questo tipo di narrazione se non un errore di fondo che è quello di essersi concentrato soprattutto sulle sensazioni che però sono tutte sensazioni proprio momentanee soprattutto fisiche soprattutto di reazione all'estetica al corpo alle pulsioni sessuali che figuratevi se è un problema per me o per questo canale però devo dire che lo trovate proprio estemporane e superficiali e che non hanno raccontato nulla di più su questo dramma su questo effettivamente tumulto che vivono questi personaggi nell'avere a che fare con le prime esperienze diciamo formative o anche con le paure per il proprio futuro io veramente ho fatto faticato arrivare alla fine moltissimo perché non riuscivo a capire se da un lato non capivo io i personaggi perché comunque basandosi su sensazioni più che elaborazione di emozioni di sensazioni vere perché fondamentalmente tutti i nostri personaggi fanno basare la narrazione su sensazioni estemporanee invece che fare un po' di introspezione da un lato e dall'altro elaborare le varie emozioni per metterci in empatia con loro invece ho visto proprio la frammentazione che probabilmente è lo scopo del libro e quindi io ripeto forse non l'ho capito io no io l'ho capito ma non mi è piaciuto quindi niente io gli ho dato due stelline e mezzo purtroppo perché capisco che scrivere libri a 18 anni anche con un'intenzione abbastanza interessante e alta sia difficile detto ciò io spero che Rocco Civitarese ci riprovi perché comunque delle basi non è che non esistono anzi per avere 18 anni credo che sia molto straordinario come lavoro non ha però la brillantezza e forse non è completo in quello che riesce a fare non riesce a essere davvero penetrante non riesce davvero a essere un'espressione di una gioventù che è così frammentata nel non sapere cosa fare dove andare cosa volere ecco e ne avere mille dubbi sul futuro su se stessi sulle proprie reazioni e sensazioni ecco non so mi spiace un pochino perché adesso sto un po' leggendo di giovani ragazzi italiani per capire un po' anche a che punto siamo sullo young adult italiana di narrativa generale sto per dire cose molto scioccanti ma insomma non no non for me però due stelline e mezzo dai non è neanche così tragico ho dato di peggio ma poi arriviamo invece a un altro giovane italiano che io ho ascoltato sempre in audiolibro che invece a me è piaciuto moltissimo che è Giacomo Mazziariol e ho letto il primo romanzo il suo romanzo d'esordio che è mio fratello rincorre i dinosauri anche questo l'ho ascoltato in audiolibro tra l'altro è narrato da Giacomo quindi si sente tantissimo l'accento veneto è anche divertente però è veramente registrato molto bene quindi ve lo consiglio ad esempio come audiolibro e mio fratello rincorre i dinosauri raccolta la storia autobiografica di Giacomo e del suo rapporto con il suo fratellino speciale insomma quello che ha il cromosoma in più infatti Giovanni che è suo fratello è affetto da sindrome di Down e racconta in maniera davvero senza filtri in maniera molto onesta ma anche non so come dire con gli occhi proprio di un ragazzo di un bambino e poi di un ragazzo il rapporto con con quella che è la vita di un ragazzo con la sindrome di Down che si inserisce all'interno di un uco familiare e poi con la vita con il mondo esterro infatti seguiamo Giacomo dall'annuncio dell'arrivo di un nuovo fratellino fino alla crescita insomma anche al rapporto difficile che ha Giacomo con l'adolescenza e a parte che è molto giovane Giacomo quindi questo mi fa sentire un po' vecchissima ma ascoltavo le stesse cose quindi bravo Giacomo vuol dire che c'è speranza nel mondo e comunque a parte le idiozie per me è un libro estremamente carino mi è piaciuta proprio l'onestà e la sincerità con cui alcuni passaggi soprattutto quelli molto difficili quelli dove si fatica a capire si fa davvero tanta fatica proprio a gestire la rabbia in alcuni momenti a gestire anche le situazioni che si nascondono in questo caso siano state strattate con estrema onestà e non ci sia stato un filtro nel volere abbellire tutto e far sembrare tutto estremamente bravo bello semplice e meraviglioso mi è piaciuto tanto perché Giacomo è riuscito a non creare il classico libro molto patetico molto molto drammone sulla questione ma è riuscito ad alternare sia momenti estremamente divertenti cioè il momento del colloquio con l'assistente sociale io avevo le lacrime da ridere e saprete e poi invece altri momenti che sono più di riflessione ma anche che esprimono anche molte sensazioni che secondo me chiunque avrebbe magari cercato di nascondere invece Giacomo è stato estremamente bravo nel rendere nella loro brutalità da un lato nella loro anche onestà perché ci sono momenti difficili non è mai tutto bellissimo rose e fiori ma non è mai neanche tutto troppo drammatico con quel senso di pesantezza che di solito storie sulla diversità di questo tipo comportano e in questo infatti ho adorato questo libro è un libro che consiglio tantissimo se volete leggere anche una storia sulla diversità su un rapporto reale realistico sulla diversità che non sia però il classico drammone patetico a cui tutti ci abituano quindi davvero io sono contentissima infatti adesso voglio leggere Gli squali che è il secondo romanzo di Giacomo Mazzariol perché sono rimasta stupita non gli avrei dato un euro invece sono veramente molto contenta soprattutto davvero c'è speranza nell'umanità la gente ascolta le band belle ci hanno nominato nella serie del libro i block party i deftones gli smiths i cure vabbè basta ok non è un libro che parla di musica ma c'è anche tanta musica quindi insomma se siete molto appassionati avrete gli occhi a cuore tutto il tempo e per il resto insomma è un libro che vi consiglio davvero tanto io gli ho dato quattro stelline perché lo trovo è un romanzo d'esordio molto maturo molto davvero spiazzante per alcuni versi e davvero vi consiglio anche l'audiolibro poi a dicembre ho anche letto gli scomparsi di Chiardiluna che vi linko qua sopra perché ci ho fatto una recensione direi abbastanza lunga tanto per cambiare che però era necessario in questo secondo volume è un libro che a me è piaciuto tantissimo quattro stelline pienissime cinque no perché cinque è molto raro io veramente sono un braccino corto cinque le do solo alle cose che mi convincono al cento per cento però secondo me è un libro che fa un passo in avanti rispetto a fidanzati dell'inverno incredibile e quindi io ve lo consiglio molto se non avete ancora letto fidanzati ovviamente leggete fidanzati se non avete letto ancora gli scomparsi non guardate la recensione ma fatelo appena l'avete fatto consigliatissimo finalmente invece arriviamo a un po' cose in lettura che mi sto portando dietro da un po' perché sono tutti libri belli e corposi comunque primo libro che io ho letto nel 2019 è with the fire on high che è il nuovo libro di Elisabeth Azevedo che ho ricevuto in anteprima grazie a chiunque me l'abbia garantito su edelweiss perché davvero mi avete fatto il regalo più meraviglioso che io potevo davvero farmi ok e io attendevo tantissimo questo libro perché Elisabeth Azevedo l'anno scorso ha scritto uno dei miei libri assolutamente preferiti del 2018 ovvero The Poetics e in questo caso noi assistiamo al suo debutto con la narrativa invece che con la poesia with the fire on high racconta la storia di Emoni o Emoni Emoni io ho sempre detto Emoni che è una ragazza madre ha 17 anni frequenta ancora il liceo ma sogna in grande perché lei ha un grandissimo talento cioè quello della cucina è di origine mista perché fa parte sia della comunità black che della comunità sudamericana insomma un po' come ci aveva anche abituato per Jomara in The Poetics ci sono tanti elementi in comune in questo caso ma noi leggiamo soprattutto della sua storia della sua ricerca della propria strada in una vita che sicuramente con lei non si è fatta mancare tante sorprese tante difficoltà allora io gli ho dato 5 stelline perché davvero è meraviglioso e io penso seriamente che Elisabeth Azevedo sia una delle autrici più incredibili che lo young adult contemporaneo possa darci e restituirci se non l'avete fatto recuperatelo a un livello intermedio però molto semplice per essere un intermedio non è verso l'avanzato avevo un po' paura anche di leggerla in prosa ma devo dire che in prosa è eccellente ritengo che in poesia abbia un super potere cioè quello di essere talmente di avere tipo non so dei pugnali al posto delle parole la poesia si vede che ha il suo mezzo perché nella poesia riesce a essere davvero trafigge con una serie di pugnali ad ogni parola è veramente straziante in alcuni momenti è veramente fa venire una rabbia in altri insomma così ma anche in prosa è incredibile è veramente bravissima perché ha questo stile molto leggero molto scorrevole non è pesante però ha una caratterizzazione dei suoi personaggi estremamente vivida anche con quei pochi elementi che ti dona riesce proprio a dipingere un mondo un sistema una dimensione che ruota attorno al personaggio ci fa vedere tutte le sfaccettature della sua vita della sua giornata veramente lei è incredibile soprattutto nel creare una protagonista che noi seguiamo sempre al quale poi alla fine ci affezioniamo tantissimo cioè è la cosa secondo me più incredibile proprio di Elisabeth se vede che veramente lei maneggia delle emozioni così così forti a volte che spaventerebbero chiunque che in mano a chiunque altro probabilmente diventerebbero drammatiche diventerebbero banali diventerebbero sciocche diventerebbero stremezzate invece lei riesce a dargli la dignità che si meritano queste emozioni e a dare anche alle proprie protagoniste un insomma un percorso da seguire che sia molto veritiero molto realistico e che riesca a instradarle in qualcosa che per loro sia di valore e io veramente a me dispiace che Elisabeth Osevedo non abbia conquistato il mondo l'anno scorso perché è oggettivamente la più brava tra le debut author sinceramente io spero che questo faccia il botto la storia è meno forse originale da un lato che quella di Jomara ma sicuramente a livello stilistico ma anche a livello di tematiche per tante cose con cui ha a che fare Emony secondo me rimane un libro bellissimo gli ho dato 5 stelline e ve lo consiglio tantissimo allora devo dire che sono un po' meno in crisi perché ogni volta che parlo di Jomara mi viene il magone ora Emony io ve lo giuro che vorrei sgattaiolare nella sua cameretta di nascosto mentre i suoi non ci sono e chiacchierare con lei tutto il pomeriggio e farmi raccontare la sua giornata la vedo molto come una sorella ve lo giuro le voglio un gran bene perché lei crea questi personaggi che tu finisci per volere tantissimo bene e lo fa con una caratterizzazione uno stile eccellente molto originale molto fresco io penso che sia veramente un'autrice che merita molto spero che ogni anno lei scriva qualcosa cioè anche più volte l'anno poi ho letto un po' di cose sparse varie ed eventuali altro libro che ho letto a gennaio è Fox Holcourt suggerito dalla mia carissima Elena di Vince Nerili ma anche da Francesca di Quiet Blizzard e allora io qua alzo le mani nel senso Fox Holcourt racconta di questo ragazzo che gioca questo sport inventato cioè questa non sembrerà una recensione seria perché probabilmente non riesce ad esserlo ma perché non c'è nulla da prendere seriamente comunque Fox Holcourt racconta la storia di questo personaggio che gioca questo sport un po' strano che si chiama non mi ricordo ma non è importante che è una via di mezzo tra hockey rugby e lacrosse è ok e si trasferisce in questa scuola lui ha mille problemi di famiglia scappa non ha una vera identità allora la trama non esiste partiamo da così la trama non esiste è una roba immonda cioè di che cosa racconta non racconta di niente racconta di lui che entra in questa squadra e voi direte Tiffany ma a te cosa te ne frega di questa cosa niente niente assolutamente nulla io e lo sport siamo tipo uno su Plutone e l'altra su Vene quindi già proprio vabbè comunque Fox or Kurt ok a me è piaciuto un casino ma non perché ci sono dei muscolosi grezzoni così a me frega niente a me di quella roba però ve lo giuro è uno dei libri che ha una migliore caratterizzazione del personaggio che io abbia letto cioè tutto il resto questo è tragico questo libro ha 3 miliardi di problemi se io gli dovessi dare un voto razionale probabilmente non supererebbe la mezza stellina ma se escludiamo tutte le cose che sono effettivamente illegibili in questo libro non c'è la trama è tutto molto arraffazzonato il world building il realismo è un'altra cosa eccetera ok lo sappiamo non è quello ma ve lo giuro i personaggi hanno una caratterizzazione che se ce l'avessero anche solo di un decimo di un decimo metà dei libri che vengono pubblicati sono molto più famosi magari guarda ci metterei la firma guarda comunque non so come parlare seriamente veramente di questo libro perché non c'è nulla di serio da prendere in questo libro però veramente ha una caratterizzazione pazzesca seguiamo sia il protagonista in maniera molto immersiva perché veramente siamo come dentro la sua testa e guardiamo tutto ciò che accade attorno ma è qualcosa di pazzesco tutti sono dei personaggi credibili caratterizzati sono dei personaggi che hanno una storia hanno un carattere hanno un modo di fare e non cambiano in base a ciò che ama l'autrice non so ragazzi non so neanche come parlarvi seriamente di questa cosa direi che la finiamo qua Fox or Kurt io gli ho dato tre stelline cioè sono stupita di questa cosa ok veniamo agli ultimi due il penultimo libro che ho letto ultimamente è Address for the Wicked Address for the Wicked sì Address for the Wicked di Autumn Crowe allora questo era uno dei libri che se non leggevo la polizia delle recensioni mi veniva proprio ad arrestare perché me l'avevano mandato tipo sei mesi fa va bene comunque libro che mi avevano mandato da recensire quindi dovevo fare ed era sapevo che sarebbe stato molto leggero l'ho letto proprio nel momento dove non volevo impegnare il cervello devo dire che come libro di intrattenimento è perfetto gli ho dato tre stelline ha fatto il suo ha fatto quello che doveva fare ci troviamo in un mondo distopico che si chiama tipo Britannia Seconda comunque insomma non ci interessa la nostra protagonista vive in questo paesino molto sperduto nella campagna che però è nella provincia della grande città della capitale lei è una sarta ha un grande talento vorrebbe diventare una designer ma ovviamente venendo dal popolino non potrà mai aspirare a tanto soprattutto in questo mondo dove tutto diviso molto per caste e nella grande città in questa sorta di mondo post-apocalittico non proprio post-apocalittico però insomma che mescola elementi dell'epoca vittoriana ad elementi della distopia alla Parigi della Haute Couture e la nostra protagonista riesce ad entrare nella più prestigiosa scuola di moda nella scuola dell'alta moda perché il partito che ha preso il potere che vuole togliere alla corona l'egemonia che ha anche sulla moda che ha sempre escluso ovviamente dall'accesso anche a queste professioni e quindi impone alla casa reale di assumere una designer proveniente dal popolino diciamo fondamentalmente il succo è quello della campagna in questo caso la nostra protagonista è molto brava riesce ad entrare e segue quella che è la casa di moda un po' una sorta di diavolo veste prada versione era vittoriana in questo caso però invece per un giornale seguiamo una designer la vita è difficilissima tutti le mettono i bastoni fra le ruote la più sfigata eccetera ma nonostante tutto seguiamo le vicende della nostra protagonista che cercherà di insomma inseguire il suo sogno in mezzo a questo mondo di squali con anche un grande plot twist a un certo punto che un po' ci sorprende allora io a questo libro ho dato tre stelline perché sinceramente volevo leggere una roba che mi proprio bruciassi i neuroni e questo lo ha fatto perfetto però devo dire che in realtà gli ho dato anche tre stelline perché io mi aspettavo una sorta di project runway brutto vecchio stile proprio una cosa becera invece ha degli elementi estremamente interessanti mi ha ricordato una via di mezzo tra The Selection però scritta un po' meglio e The Bells di Daniel Clayton che ho letto l'anno scorso però settato ripeto in un'epoca semi-vittoriana però post-apocalittica cioè post-presa al potere del partito del popolo mi ricorda qualcosa ultimamente ma comunque è poi settato nella Parigi similvittoriana insomma ha tanti elementi tanti 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 è molto ridondante questo libro su tanti aspetti però devo dire che è molto lineare nel seguire la storia tutto ha senso in base a come è stato impostato allora gli elementi peggiori del libro sono chiaramente i romance perché è una cosa che non ha senso ma ha senso zero proprio e soprattutto sembra quasi che fosse stato progettato per avere un seguito perché comunque si parla tanto di tante questioni che non vengono risolte e poi non è che hanno una conclusione cioè boom anche e soprattutto la parte distopica che in realtà è abbastanza interessante perché c'è questo partito che è salito al potere e sta imponendo piano piano le proprie regole togliendo potere a diciamo i poteri forti precedenti però facendolo risulta quasi più una dittatura che altro è molto interessante questo aspetto ma purtroppo more con il libro perché è stato superato dalla parte un po' più fashion legata a queste cose si vede che l'autrice è esperta nel campo infatti da quello che ho indagato un pochino ha lavorato per tanti anni come sarte designer e si vede perché è competente in quello che scrive infatti forse anche per questo che è risultato meno frivolo del previsto questa parte e non lo so a me ha fatto il suo dovere molto carino e a Dress for the Wicked si è beccato tre stelline arriviamo alla parte dolente ma nel senso dolente perché mi dispiace cioè mi dispiace perché stiamo per parlare di Jay Kristoff e sapete che io gli voglio un gran bene ma tanto bene perché lui è un patatone alto 70 metri quindi insomma un po' mi dispiace dire questo anche perché ci ho messo tanto a leggerlo comunque stiamo parlando di Lifelike che non ho neanche voglia di togliere dalla libreria ho finito finalmente dopo mesi Lifelike e ho capito perché fondamentalmente ci ho messo mesi a leggerlo invece che una notte come è successo per Nevernight e God's Grave o Illumine Lifelike è questa sorta di retelling potremmo dire di tante cose ci sono degli elementi di Anastasia ci sono degli elementi di Romeo e Giulietta ma c'è anche un po' di elementi alla Blade Runner quindi roba post-apocalittica futuro brutto eh Cloud Atlas cioè tante cose mi è piaciuto e racconta la storia di Eve che vive con il nonno in questa sorta di mondo post-apocalittico ormai ridotto in cenere pieno di detriti rifiuti meccanici eccetera eccetera si guadagna da sopravvivere combattendo tra robot tipo lei pilota un robot da combattimento però un giorno mentre ritorna a casa e sta fuggendo da alcuni personaggi trova un Lifelike ovvero un automo una sorta di automo però estremamente umanizzato con caratteristiche che replicano quasi interamente quelle di un essere umano che le farà capire che tutto ciò che lei sa della sua vita è sbagliato e che sta dimenticando una grossa fetta del suo passato infatti si scoprirà che Eve ha perso la memoria e grazie a una serie di Eve le tornerà scoprendo che è la figlia del costruttore dei primi automi dei primi robot dei primi Lifelike insomma e poi va avanti con una serie infinite di altre questioni allora stile DJ è già di per sé molto ostico se non è sorretto personalmente da una trama che ti rapisce così tanto e da dei personaggi come quelli che vediamo in Nevernight o in Illumine io trovo veramente pochissimi elementi che mi tengano attaccati alla storia ok questo è un problema e in questo caso una fatica raga ma una fatica so che non è cioè questa è la recensione meno professionale che ci sia ma alla fine sti cazzi ogni tanto me lo concedete cioè tutto questo video un po' me lo concedete e veramente io ho fatto una fatica immane perché Jay Christophe purtroppo ha già di per sé questo stile difficilissimo no ci metti tanto ad entrare ci metti tanto a cioè non ha mai una frase lineare cioè ogni cosa ha una contorsione di talmente tanti gradi e talmente tanta brutalità che alla fine finisce una frase e dici ma l'ha scritto veramente è ok però questo qua un po' sei abituato da ciò che hai letto in precedenza dici va bene in questo caso purtroppo già lo stile è ostico però dopo può prenderti moltissimo perché infatti ciò che lui fa in sia Illumine che in Nevernight God's Grave è proprio quello cioè comunque nonostante la difficoltà il suo stile ti porta ti traghetta dove vuole lui in questo caso la storia è veramente molto debole la storia è un po' troppo già vista per alcuni versi anche se cerca di dargli un po' i suoi elementi molto alternativi un po' edgy ecco un po' sopra le righe bizzarri però nonostante questo secondo me non regge soprattutto la trama perché la trama ci vede è molto è strana la trama è composta così per un certo punto seguiamo i nostri protagonisti all'inizio che sono una squadra diciamo che fa le loro cose ok poi abbiamo un balzo nel passato perché riacquista la memoria Eve quindi passiamo un pezzo del libro a tornare indietro dopodiché vediamo rimbalzati in avanti ma con una sorta di sovrapposizione tra personalità dei personaggi che per magari il senso di come è impostata la trama e nella testa magari dell'autore è sensato nella testa del lettore invece è troppo repentino e crea dei personaggi che più si avvicinano verso la fine meno sembrano coerenti col personaggio stesso fanno delle cose e hanno dei modi di fare delle azioni una così che proprio non li fanno risultare autentici li fanno risultare frettolosi abbozzati non mi è piaciuto ragazzi non so se si è capito che non mi è piaciuto ho capito tutte le intenzioni cioè diciamo che ormai sono in quella fase dove capisco l'intenzione ma se l'intenzione non è poi così riuscita io non me lo merito cioè io non perdo tempo nel fare queste cose qua mi dispiace davvero perché comunque cioè poteva essere molto interessante ma poi si perde un po' di cliché che non me li aspetto neanche da Jay e il fatto di rivestire queste cliché di un sacco di metallo un sacco di sparatori un sacco di frasi abbastanza volgari non è che poi va a mascherare il fatto che i protagonisti diventano rincoglioniti a un certo punto non lo so mi è proprio dispiaciuto io cioè per un certo punto più di tre stelline ma proprio perché gli voglio bene non gliele posso dare perché è terrificante rispetto a tanti altri romanzi di Jay Crystal che a me ripeto è un autore che piace molto e quindi sono un po' dispiaciuta e poi penso ma cioè ha dovuto scrivere sta roba ed era necessaria mentre poteva pubblicare Dark Dawn e concludere Nevernight ok detto ciò smetto di sclerare e siamo arrivati alla fine perché finalmente ho finito di parlare di tutti i libri che ho letto negli ultimi mesi è stato un po' confuso perché fondamentalmente ho scritto meno recensioni meno appunti è solo tutto un flusso grandissimo di coscienza di quello che ho letto comunque insomma spero che vi siano comunque risultati interessanti spero che quelli che invece mi sono piaciuti molto ve li segnate mi raccomando with the fire on high papaya salad e mio fratello rincorre il dinosaurio io ve li consiglio moltissimo quindi insomma siamo arrivati alla fine e niente io come sempre spero di avervi tenuto compagnia anche oggi mi raccomando se non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate la campanellina giù trovate tutti i link ai miei social se mi volete seguire insomma in qualcosa dove sono un po' più attiva rispetto a youtube e io spero di avervi tenuto compagnia anche oggi e niente direi che ci vediamo alla prossima ciao